Buonasera Londra. Nel 2015 il Project Invictus ha fatto degli accordi commerciali con delle aziende. La filosofia di fondo è stata scegliere quei marchi che noi per primi andremo a comprare. Oggi parliamo di GoNutrition. Perché abbiamo scelto questa azienda inglese? Le ragioni sono differenti. La prima è che non utilizza dei testimoni aldopati. Quindi il consumatore vuole farsi prendere per il culo, vede Coleman con accanto l'integratore. Ecco, a noi prendere per la gente per il culo non ci interessa. Quindi GoNutrition ha scelto di non avere testimoni aldopati. L'azienda così non spende soldi in questo tipo di promozione e si può concentrare unicamente sul prodotto. La seconda ragione riguarda l'imballaggio. GoNutrition non butta via soldi nel farvi vedere il barattolone il più bello possibile, nel trovare chissà che colori, ma cerca di trovare l'ottimo rapporto tra mantenere e preservare il contenuto del prodotto e il risparmio. Quindi il suo rapporto qualità-prezzo è ottimale grazie anche a questo. La terza ragione è che è un'azienda europea. Tutti i suoi componenti sono a Manchester, quindi non è come altre aziende che fanno un prodotto o l'imballaggio magari in Europa e poi fanno fare le varie componenti, per esempio, nei paesi dell'Est. Tutto quello che trovate è rigorosamente testato e approvato dalle leggi inglesi. La quarta ragione riguarda la politica di trasparenza. Se io compro un prodotto non voglio soltanto vedere gli ingredienti in ordine di quantità, ma voglio anche sapere quanto c'è di quel tipo di aminoacido e in che proporzione. Ecco, GoNutrition mette esattamente i quantitativi delle sue formule. Questo ci permette, se abbiamo le conoscenze, di valutare realmente il prodotto, quanto è efficace e in rapporto quanto costa. In conclusione, se dovete comprare un integratore, per tutte queste ragioni GoNutrition rimane una delle scelte migliori e tra le aziende con un rapporto qualità-prezzo veramente ottimale. Noi del Polroject Invictus ci mettiamo la faccia nel consigliarvelo perché ci crediamo, perché ci siamo presi tutto il tempo di cui avevamo bisogno per analizzare le differenti aziende e alla fine abbiamo scelto GoNutrition. Se credete nel Project Invictus e dovete comprare degli integratori e avete voglia, potete prenderli direttamente dal loro sito oppure potete passare cliccando dei nostri banner in home page. Questo ci permette di guadagnare sulle affiliazioni, quindi prendiamo una percentuale. Se avete voglia di supportare il Project Invictus e prendete degli integratori, ci fate sicuramente un favore. Ancora grazie e da domani sul Project Invictus metteremo soltanto articoli che vi fanno vedere come allungare il pene grazie agli integratori.